Che cosa c'è in un sito con te, che sopra non fa bene con me? Oh, dici, oh, dici tutto qua che è tutto tranquillo per te. Che cosa fai quando c'è di più di una, che non mi direi che non guardi nessuno? Che cosa fai quando c'è? Grazie a tutti.